Per festeggiare questa ricorrenza, sabato 30 maggio ha invitato soci, dipendenti e amici al Teatro Comunale di Bologna, dedicando loro un restal del soprano Raina Kabaivanska. Una serata di grande musica nella quale il soprano bulgaro, una delle più famose interpreti liriche dei nostri giorni, ha eseguito alcune impegnative romanze del melodramma italiano, accompagnata dall'orchestra del Teatro Comunale Bolognese, diretta dal maestro Maurizio Benigni. Figur Pio Faggio di Te, figur Pio Faggio di Stoiczio, Grazie a tutti. Grazie a tutti.